Dramma poco prima di mezzogiorno di lunedì 2 maggio sulla spiaggia di Ghiaioni a Chioma dove una donna di 78 anni è stata trovata morta. La salma della donna nata nella provincia abruzzese di Chieti è stata portata all'istituto di medicina legale dell'università di Pisa per l'autopsia. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.